musica 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 eccolo allora siamo su planet side ma che fai? mi spari? coglione te proteggi a merda tu pure cioè te nascondi dietro tu pure ammazzato scusa scusa non ho fatto non pensavo che è mortissimo ma che mica saremo nemici no te spari pure i camici ah lo so però prima sono stato ah forse quando stiamo fuori se me ne amo se fiamo male ho capito te vengo sotto casa e te sparo con una pistola pure se sei amici non te fai bene è bene effetti si però se stiamo qua dentro se sparamo dentro all'anello ah si all'anello alla cupola non se fiamo un cazzo ma perchè vai dalla parte opposta? ma perchè ti devo cuore appresso? allora c'era un punto dove credo dovevamo andare a difendere ecco te via qua aspetta vediamo un po' se funziona sparami te ah ma special medico de merda aspetta un po' no qui dentro è qui dentro no perchè sta diatrata così è quello che stava a dire dunque ma me vedi te che classe c'ho capisci? e come faccio a capirlo? allora tu dovresti andare dentro col profilo se tu fai esc poi fai mio profilo tu dici che classe c'ho vai su potenziamento sto sul profilo nessun titolo grado di combattimento potenziamento classifica cadetto ma chi cazzo sono? aspetta l'avevo visto adesso c'ha la fascia da medico eccolo qua eccolo qua stai dove c'è la pistola in pratica il terzo tab in basso te lo dici che sei? un salto leggero a posto io pure mo che fai? a trovasse o siamo trovati? allora vai diritto a noi? eh ma andiamo a più a mezzo perchè lui c'ha il quad? perchè lo potemo pia quando cazzo ci pare basta che andiamo dentro lo piamo e andiamo a pia in veicolo e andiamo a pia in veicolo e andiamo a pia in veicolo ma io pure te lo dovevo dire c'hai ragione guarda un po' quanto zonpo basta tenere premuto non è che sei bravo te eh però guardami che lo faccio col culo aspetta vedete aspetta vedete no non l'ho visto io mi causo i razzi è tutta roba mia è tutta roba di culo allora non abbiamo cazzo di veicolo non ho cazzo non ho cazzo ed è qua l'aereo l'aereo si l'aereo è arrivato ma cosa abbiamo camminato questo gioco l'aereo vuole glielo parcheggio io signore non se preoccupi ah la andiamo proprio a pia dove va? no no sta merda no ma come l'hai preso? ah no sto dire a te no stai con altro siamo abbandonati tre anni e mezzo a stallaggio sto gioco siamo abbandonati allora andiamo a pia al mezzo ma al mezzo allora il mezzo appartiene a te dovresti andare a... dove vai? girate dovresti andare lì dentro vedi dove sto andicato? lì lo devi a pia al mezzo il tuo altrimenti te cosi... ci stanno 8.000 simboli di mezzo ma perché te ce l'hai? no io ce l'ho si lo posso prende ora vediamo... o se no taggregi a quelli copiano se pia l'aereo questo qui grosso cazzo è tutt'uno devi avere un aereo piccoletto qui c'è un elicottero qui c'è un altro elicottero qui c'è un co***o che spara non lo vedi S4 o Note 3 vediamo un po' qui c'è stanno le armi e qui c'è stanno i carri andiamo a pia ai carri? ma questo sei te no questo non sei te ecco me ne sto qui sto su un po' per aria vedi eccilo boom oh oh qua che dici? abbiamo il carro? abbiamo il carro armato ah qui c'è il quad ma io voglio il quad poi c'è il rasser il sunderer sunderer per quelli bravi il quad dai tu quad al volo oppure una macchinetta una cosa rapida cambia aspetto allora facciamo il flash sicuro devi essere premium eh? sicuro genera subito dice 100 qualcosa o vuoi i sordi? eh qua sotto meccanizzate 100 vedi? genera subito l'hai generato si però spenni 100 e già c'è sto io sto fuori io pure dai dove stai? eh che ti aspetta che ti vedo se te no si andiamo a sparare qualcuno te prego spariamo si e te va bene come prego andiamo a vedere un po' di mannà andiamo a vedere un po' di mannà col quad beh pure i veicoletti però non è un spettacolo eh sto andando alla direzione opposta a quella andando di mannà eccilo ne sai che sto andando assolutamente alla direzione opposta vedete che sta andando di mannà oddio bello me so ammucchiato vabbè dai mo è un quad ma non c'è una possibilità di vederlo un po' da fuori no eh sicuramente si è già sfonnato no allora una cosa è sicura mi pare che quando te ci saranno oh ma sei rotto che c'è? sei rotto già ste ma è che il tuo? o il mio? è una merda vabbè è un quad ah non va in salita perchè stiamo troppo in salita arriviamo da qua vieni e cala un altro un altro giro salisci su ecchiamo qua cerchiamo di ritrovare una parvenza del rettilineo eccomi oh vedi mamma mia che pietra ho preso uno scolo mamma ho preso tutti secondo te la visuale come cazzo la cambio? ma le piene ne fa? forse cos'è? andiamo a sparare qualcuno andiamo a sparare qualcuno andiamo a cercare aspetta vediamo la mappa no donnamo non stiamo andando in là fate i giretti guarda è pura guida ne è fatta malosa cazzo ecco in direzione dove stai andando te fermate è qua no? è qua giusto? yeah qua mi diceva prima difendi da una parte non vuol dire che devi andare lì a difendere così a occhio eh si se te lo dici quando cazzo stai? ecco non lo dice più stavo andando a vedere una parte ah ecco dell'agione venendo sei arrivato ma quando ti dico fermate te fermi guarda che t'è sta coda ma la comando proprio sul quoddo da come so forte de quoddo se vieni sto a fare una cacciara su sto quoddo la dovresti vedere girare come coglione allora qui difendi non lo dice più ecco va allora la mappa mettiamo sta strada andiamo dritti o troveremo un cazzo qualcuno da ammazzando stai ok mettiamo sta strada andiamo dritti ed è qua dritto per dritto manco dritto strutture conquistate ma che cazzo? ma perché mi segna una strada che non c'è? se andiamo dritti dovremmo andare a sinistra lo sai che abbiamo sbagliato e ora ce ne proviamo a deviare eh 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 qua c'è una strada l'arma in arrivo che forse? si spara qualcuno zitti non me di oddio che fai i chiodi geni non te funziona un stop i portacci beh diciamo che scendo tutto sto traffico qui probabilmente non hanno punta di soldi per me dove sei? la che fa mi parcheggiamo qua ne che sei in cura vabbè un pezzo è sta in roma qua beh penso proprio di si eh poi si creano da nulla farono quelle di Dragon Ball vabbè ma a chi devo spargare? andamote qua appiamolo allora io direi dobbiamo andare al fronte se tu vedi la mappa noi siamo lontanissimo dal fronte se tu vedi dove ci stanno le battaglie va bene zoom indietro indietro e che cazzo? e che devo arrivare lì? e che perire? che becco il quad che ci mettiamo? la messa a benzina ma non si può segnare ho segnato un punto ma lo dovrebbe segnare sulla mappa e allora vai che ti seguo no e non l'ha segnato aspetta forse qua la freccettina andiamo un po' imposta punto percorso personale andiamo qua che è più vicino dovresti vedere tipo una freccettina eccola va messa oh vista opposta punto percorso stai andando alla parte opposta andosto io mi sa non vorrei sbagliare via qua dietro vabbè ti seguo guarda sto gioco ha già marotto il cazzo c'è non si può camminare tre ore prima di sparare solo il GTA solo può percorso presumo che dobbiamo fare in versione no? presumo che dobbiamo andare a versare là si ah ma ecco che è un quad con cui non puoi andare fuori strada mamma mia yoohoo yoohoo e taglio dritto per dritto a destra no? si? dritti per de qua? dritto dritto inizia allarme è dietro lo stretto si corsa al potere arrivamo tra tre ore ma guarda che cazzo no? ci stamo ci stamo oh è colla oh sorry chi? siamo in due nell'arco dei 5 km e sono riuscito a tamponare ahahahah vabbè tecnicamente muori vamo e fanno guarda come morimo eh guarda eh fai sicuro muo fanno tre ore di viaggio e sicuro morimo su ma è postato lo stava di oppela e chi c'è? io direi che magari questo è uno che fa oppela senti vuoi giocare a Little Big Planet occhio e chi c'è? io direi dei parcheggià? vedi che botta no ma ti posso acciaccare cioè se gli tiro dritto un faccia mi sa che ci tirano noi ma che cazzo gli andiamo a fare? ma l'ho già visto corri aggiriamoli aggiriamoli ma che aggiriamoli che mi ha preso in pieno gli vado dritto addosso andate affanculo come i matti piate sto quad in faccia ma li mortaci dispiega andiamo e dispieghi ma l'hai ammazzato te e parli allora dispiega eh ho capito dunque dispiego allora sei quello verde? si allora me le posso mettere vicino ma 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 l'ha lasciato qua cagliardo andiamo a cercare di conquistare dai sei quello con due verde si tu stai dalla parte opposta io li sto praticamente dentro la base ma ma l'hack e l'ampeggia guardi che sto a venire a conquistare io ma l'hack e l'ampeggia è un po' un po' dispersivo vabbè ci devi fare la mano è un peore che il cammino ho sparato mezza ora vabbè fate conto è tipo batterti ammazza che bella grafica qua a me non mi pare tutta sta cosa ti ripeto l'ho messa a cannone però alà aspetta è fatta bene poi il gioco è pure gratuito mi date una parvenza di di alleato? qualcuno che mi possa aiutare vediamo che tocca tu dove stai? io sto cercando andando c'è scritto con questo pure io però non te vedo sulla mappa mi fai venire mi fai venire con te cari armato oh fermiti vabbè ho capito fai come te pare vedi questi come stanno sgravano questi io mi devo appizzare qua ma non c'è un manco a ieri mi fa proprio un cazzo ma cos'è che devo? non c'è un po' di panteria a piedi io sono arrivato qua praticamente eppure io sto veramente sono andato per due ore nella direzione sbagliata a me mi hanno... ho visto subito che c'era qualcosa che non andava nel mentre sono arrivato mi sono accorto che stavano tutti lì ha preso tutta roba che vola ma che è? no vabbè ho capito ma sta dietro questo sta dietro vedi questo sta dietro la barriera perchè vedo vedi che era armati fa i capriole se spostano tutti nella mappa a caso vuoto potenziamento assalto leggero potenziamento vuoto ottieni potenziamento vediamo un po' si acquisto 3.000 tre ma baffanculo e tenculo proprio si dicevo no è stato un piacere provare diciamo vero? ma porco il posto questo max qua punti di certificazione devo spaziare tutto io max di certificazione ecco ma non stai a registrare si si ma da quando si ha detto che non stavi a registrare eh da quando ho detto che non stava a registrare ma non stai a registrare perchè non ho passato via ma a te ti piace sto gioco? perché? a te no? a te no? a te no? vabbè lo dobbiamo provare dai eh ma poi mi si muovono tutti strani come se c'essi la lag se spostano mi scompaiono da davanti dobbiamo conquistare sta cosa io vorrei entrare scaricare qualcosa di nuovo no non sto scaricando cazzo ma che è successo? eh ste? si allora credo di averla lag ora perchè la ho non lo so nel senso non sto scaricando niente vabbè quelli stanno dietro al muro e che gli è facile? che gli fa infatti? che gli fa? manco una bomba gli posso dire vabbè senti se spariamo io e te ste ha trovati? la parte più divertente è stata quando hai mai sparato te che che? ah devo andare con devo andare con ma lo devo riavviare schifito ma vedo la gente pulare e mi scompare davanti ma che cazzo è? riavvio un attimo sto cesso eh ste nooo l'ho ammazzato uno e non registravo e qua non mi ricapita ma vedi che all'armo stai registrato? no l'ho fermato un attimo perchè sei uscito e stavi a riavviare no non è giusto non è giusto ha fatto una kill ve lo giuro ma sei così triste da dove prende una singola uccisione su una registrazione eh ho capito però voglio di qui Gianni Gianni li trovi ho trovato uno che sparava un amico scusa che fai? o lasci lì che sparava un amico? eh no no a tempo capendo manco fermate fermate dove hai? te questo car armato via qua ma dammi la mano dammi lo strappo eh ho capito siete tutti i mali siete degli aridi statti mi sa che a sto gioco c'è giochi da solo eh dichi e dico sì ora devo rifà tutta la strada perchè non ti sei rigenerato dove stiamo? vai sulla mappa selezioni il punto ti spiega è ormai mavio nel culo io sto in squadra con la cupipu non so chi sia se giochi da me è già marotta il cazzo va dai non me posso teletrasportare niente devo morir così tutta a piedi vabbè questa è una delle cose che fanno di sto gioco la vastità enorme la vastità enorme la vastità enorme ma che la vastità enorme? ma è una merda ma fa un teletrasporto vuoi fare vasto e poi mi rompe il cazzo ma il teletrasporto c'era io prima mi ce ne son filato eh ma hai beccato mo il server giusto io sto andando a romper culo a questi io già uno l'ho ammazzato Wutster ciao Wutster mi senti Wutster rosso rosso l'eroe Wutster me copi a wals america baby ho parlato a bordo Wutster no non gliela posso fare mi vieni a piazza non te vengo a piazza non manco quando stai ma guarda che mi dovresti tecnicamente rimanare pure l'amicizia mi dovresti invitare un'altra volta al gruppo chi è? non sei un nemico vuoi che venga con te? vengo con te ho capito dai andiamo? dove andiamo? su parti Ciccio allora è una Gitargan Canyon non è dopo dov'era il social? qua scusate allora manco dentro sto per armare dove andrà? niente allora noi dovremmo andare ad attaccare lì ma come l'attacco io con la pistoletta da qua? devo far giro di sotto sempre che questo non mi secca il che è probabile da vedere fuori la caposchetta bastardo guarda 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 questo bastardo suicidio perchè quello mi ha sparato mentre stavo in volo muodotto ma mi sto a divertire io eh? eh? sto a divertire sicuramente un bel gioco non ti piace? non ti piace ma si bisogna capire un attimo che devo fare so quattro ore che cammino gioco e fatto bene io non so dove stai io sono morto qui io sono morto quasi quasi me però fidate non ha te lo sai che è complicato quello si scena fa una cosa senti dato che ci stanno sette cerchini perchè non esci e fai faccio da palo? faccio da palo no no te questo qua ah allora io intanto non capisco perché così vabbè mamma mia siete in merda pure sui giochi ma che modo questo? dove lo sta a volare? ma che sta a volare? ma nooo ma l'ho capita adesso che c'è stava il propulsore che c'è stà? il propulsore che ti faccio un pa' fino a qua a base e là e li imbocchi dentro accetto grazie che mi hai rianimato caro ammazza quanto so durato meno ten gatto sull'acassia porco vedi? ma guarda questo quanto è bardato vabbè ma che caso no no dispiega dispiega aspetta 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 cambiamo tutto qua medico da campo no genera assalto pesante non muovo a pià perchè? cambia aspetta perchè muovo a pià? eh posso pià solo assalto leggero medico da campo mettiamo massimo c'è qualcosa che mi sfugge su questo gioco qualcosa solo? qualcosa e proviamo corcecchino a quel punto ecco no io mi do sento una cifra a basso ste arzati oh e bai rifaccia ciccio rifaccia che viene a fare lo sto sento una cifra a basso arzate mi ha detto io mo spengo sto cesso di microfono del cazzo ah mo son nati tutti che merda mo che ho crepato qui due a schifosi no oh hanno paura pure sui giochi guarda che te riformi a due metri una volta che hai capito come fa merda ma mi sono generato praticamente mi sono generato praticamente dove ci stanno tutti i nemici che vengono attaccando a basetta di merda che non vale un cazzo a quel punto che te devo di ma pion del culo ma pion del culo ma pion del culo ma pion del culo per dovere mio ho fatto due dal cazzo ho levati ma posso pure morire io ho capito ma quanto puoi volare con sto coso? eh dipende guardalo abbastanza però non dura tantissimo allora io devo capire cosa cazzo devo fare per conquistare questo posto di merda devi venerci sopra dentro e devi ammazzare tutti quelli che ci stanno ma riuscii a capire? ma mi fa entrare c'è una cosa rossa aria riservata mi dice allora è preda lo devi liberare ci stanno ancora loro vada fermate che t'ho visto buono si vabbè il cecchino che ci metto 8 anni per ricaricarma che davvero ci sei qua ci so quasi non ti fermare magari il tuo sto sentito guarda sta merda come si è andata a nascondere ma tu invece di stare qui a cagare ma vieni fuori a sparare è un gioco che non spara tutto si chiama no si chiacchiano sotto pure nella vita ste merda vabbè magari stava semplicemente fumando o facendo altro però vabbè vabbè qua me ne posso andare al posto vabbò caccola bel gioco del merda ma no left for dead tutta la vita proprio no è carino però tutta la vita left for dead lo sai no tutta la vita left for dead nel senso a questo ci potremmo giocare però quello è troppo più immediato lo sai quale voglio però scaricare poi che era black black light retribution che mazza quello sia immediato oh cazzo guarda quanti una volta che hai capito questo magari lo è pure questo eh ma questa è un'altra impostazione questo è quello che è battlefield e black light è quello che è call of duty sono due cose completamente diverse cioè uno è più questo è il più molto più tattico ma sapeggio giocare ma che è tattico non si parla nessuno ognuno non ha peccazzi su vabbè perché noi sentivo noi stiamo con un chat di steam ma dove cazzo sta? stava qua ma le fazioni che so blu rossa e viola viola sta gonfio noi siamo ho presa la più merdosa guarda la mappa noi siamo la repubblica di san marino eh guarda beh pochi ma buoni neanche perché ci stiamo noi senti io vado a mangiare è stato un piacere schifo ecco e io vado a morire e anche ammazzato e direi che è la fine che te meriti beh questo che mai ammazzato sei prima di avermi ammazzato che stavo con la stessa squadra mi hai proposto sto gioco che è stato complicato se non c'è inutile e potremmo fare una partita a left for down quindi va a far culo molte grazie molte grazie è stato è stato intenso ma non bello ma neanche intenso in realtà l'ho considerato molto poco benissimo è quello per cui è stato intenso eh avrei fatto gli stessi identici discorsi anche se tu non ci fossi stato e non fossi stato su skype è bello questo mi limitavo a sbraitare contro la merda è sempre un piacere vero Torbach sentirti qui nel nostro canale su clanofgamers.it e saluto tutti al prossimo video non so se qua su planet side si te va non lo so da qualche altra parte la prossima proveremo Blacklight Retribution buttalo sotto a scaricare così per fine settimana oggi è lunedì, forse per venerdì non è il tempo di scaricare sta merda dei Planetside, ma cominciate a fare controllo dei file in corso, 32 ore poi mi dicevi, scarica quello, pia quell'altro gioca a quello, Steam che blocca al download si stai a giocare lo sai che c'è? Meglio pagare è meglio pagare eppure quando paghi c'hai problemi tra l'altro, figurate quando non paghi vabbè Ciscio ciao Merdolo, ciao Giacola a domani, ciao ciao